Mondo Fittress 2014, 12 settembre per sostenere l'associazione italiana ricordiamo osse genesi imperfetta delle malattie rare dei bambini sulle osse oggi verrà donato, verrà raggiunto un tot di soldi per donare all'Umberto I un macchinario, la Moc Siamo tutti stati coinvolti perché conosciamo persone che sono affette da queste malattie io peraltro facendo Teleton ogni anno ci dedichiamo a combattere o a cercare cure la ricerca, a cercare cure sulle malattie rare quindi insomma sono venuto più che altro a dare un abbraccio a queste persone sperando che riescano ad ottenere un bel risultato di raccolta E noi ti ringraziamo di questo augurio, tu sei sempre presente appunto con Teleton e tantissime iniziative diamo ancora un messaggio a chi ci segue Sì, quando è possibile cercate di sostenere queste associazioni che ovviamente si dedicano a questo anche perché hanno dei problemi in famiglia o li hanno avuti e lo fanno per fare del bene quindi sono come dire situazioni trasparenti, grazie Grazie Fabrizio per l'impegno, grazie per vederci Ciao, ciao, arrivederci